Buongiorno cari amici di Chimerarevo, oggi andremo a vedere cosa troviamo nella confezione di vendita di LG G-Pad 8.3 che ci è appena stata consegnata. Andiamo subito ad aprire la confezione, qui in alto troviamo immediatamente il tablet che potremo rimuovere con questa linguetta. Non vi parlerò del tablet in quanto ve ne parlerò in sede di recensione, comunque un tablet davvero ottimo, l'abbiamo già provato. Qui sotto il primo strato troviamo il contenuto della confezione, troviamo il solito caricabatterie standard da 1,8A con standard USB, cavo dati USB, micro USB usato anche per la ricarica e i soliti manualetti di istruzioni e di avvio rapido della LG e la dichiarazione di garanzia. Niente di interessante, le solite cose, manuale che probabilmente nessuno di voi leggerà, niente altro da segnalare, niente cuffie, niente accessori di nessun tipo, una confezione davvero semplice ma un tablet che promette davvero bene. Nelle prime nostre ore di prova l'abbiamo stressato abbastanza, la batteria sembra durare bene, le prestazioni sono veramente buone. Una confezione molto semplice per un tablet invece davvero performante e interessante, non ve ne starò a parlare qui adesso, se avete bisogno di informazioni fateci pure delle domande qui nei commenti, sui nostri social o sul forum. Se volete vedere qualcosa di particolare di questo tablet esposto nella recensione, ditemelo pure, vedrò di accontentare un po' tutti. Salve e arrivederci! Grazie a tutti!